ecco vi faccio vedere cosa c'è qui attorno qui c'è un'abitazione e se mi sposto sulla destra c'è c'è un guado un fiume qui vi è della gente che sta aspettando via una specie di traghetto più in là che porta le persone dall'altra parte mi trovo qui in questo posto in mezzo sono al capolinea qui ecco qui abbiamo delle persone che stanno uscendo ecco qui sono tutti vestiti così e c'è proprio